Allora, ciao a tutti ragazzi, non avevo il progetto di fare questo video, ne avevo già preparato un altro, però sono successe un paio di cose in questi giorni. Innanzitutto sono andato in Olanda e quindi volevo parlare della mia esperienza in Olanda. Allora, ogni volta che ci vado, ve lo dico, mi stupisco, mi stupisco perché l'Olanda è davvero tutta nuova. Io non so come mai, ma dalle strade ai palazzi, agli edifici, è tutta nuova. Quindi questa è una cosa che mi stupisce sempre, ogni singolo paesino in cui vado, è tutto nuovo. Poi, seconda cosa, molto molto pulita, almeno questo è quello che ho visto io, e terzo fattore fondamentale, le persone, dal mio punto di vista, sono davvero gentilissime, aperte, ne ho conosciute davvero tante, perché mi piace quando vado all'estero conoscere persone e vi dico la verità, secondo me l'Olanda è una nazione bellissima, per mille motivi. Per quanto riguarda l'economia, io ho conosciuto, adesso che sono stato in Olanda, una persona, la cui mamma faceva l'infermiera, capo infermiera, prendeva 3.000 euro netti e mi spiegava che da infermiere comunque arrivavi appena iniziavi a circa 2.000 euro. Poi, chiaramente notti, non notti, quindi più o meno, secondo me, è abbastanza paragonabile alla Germania. Quello che cambia, magari, rispetto alla Germania, secondo me, sono i prezzi, nel senso che l'Olanda, effettivamente, è un po' più cara. L'ho visto nella benzina, che costava 25 centesimi in più, qui era 1,26 da me, quando io sono andato, là era quasi 1,50, 1,49. L'ho visto nelle cose, magari, nei bar, l'ho visto nei supermercati e così via, quindi è un po' più cara, questo tenetelo in considerazione. Però, sinceramente, vi dico, l'Olanda è davvero una gran nazione, ordinata e soprattutto le persone, non è importante come ti vesti, non è importante, è molto, secondo me, molto bella come nazione. Allora, secondo punto, cos'è successo in questi giorni? Mi scrive un utente, dicendomi, eh no, tu ed in sbagli, tu non devi dire così, tu devi dare altre informazioni, voi vivete come mummie, noi almeno, ok, ci svegliamo poveri, ma col sole e col sorriso. Però, ragazzi, primo punto, io non devo dire niente, nel senso che non è che un'altra persona mi può dire quello che io devo dire, io dico quello che è la mia esperienza, non mi sembra di essere stato mai arrogante da dire, eh no, è così, non voglio più discuterne, oppure, no ragazzi, è così, così e così e non se ne parla, no. Mi sembra che sono sempre stato abbastanza, come posso dire, non arrogante, anzi aperto alla discussione. Se uno mi scrive un commento, ora, io non voglio bannare nessuno, perché non è nel mio stile, e perché sono una persona educata, credo che sta nell'altra persona il fatto di capire se il commento, e i commenti che scrive siano appropriati o meno, perché secondo me, io non andrò mai a dire ad una persona, eh no, tu sbagli perché a te piace il sole e tu ti svegli... Sono cose stupide, non sono quelle le argomentazioni. Secondo me, ci sono persone a cui piace il sole, a me personalmente piace invece più la pioggia e così via, quindi, il fatto di dire ad una persona, eh no, voi vivete come mummie e così via, mi sembra molto infantile, io sinceramente sono molto contento di vivere nel centro-nord-Europa, comunque in stati dove la popolazione è comunque del nord-Europa o stati germanici, perché mi piace la mentalità, mi piace il fatto anche di essere più riservati, mi piace il fatto di essere un po' più timidi, il fatto del tempo, a me piace molto, ad esempio la neve e così via, però non si può obbligare ad una persona ad amare le stesse cose che ami tu, quindi io lo dico sempre, ci sarà chi si trova meglio in Spagna, chi si trova meglio in Portogallo, chi si trova meglio in Italia, chi si trova meglio in Svezia, nel nord della Svezia, quello dipende dai gusti, ragazzi. Soprattutto maggior ragione andarmi a scrivere che è in Germania, io sono stato a Londra, là fanno dei corsi incredibili, invece in Germania i corsi lingua fanno tutti schifo. Anche lì, il fatto che me l'ha scritto con un italiano che lasciamo perdere senza H e tutto, non perché io possa dire qualcosa, però allora gli ho risposto prima di tutto, secondo me dovresti porre già più attenzione sulla tua di lingua, prima di andare a studiare le altre e criticare le altre, però vabbè, questo è un altro discorso. Ripeto, io mi sembra di essere educato, non voglio bannare nessuno, però credo che sia nell'intelligenza delle persone scrivermi commenti appropriati, voi lo sapete, io cerco sempre di rispondere ai commenti, aiutare comunque se posso anche a dare qualche consiglio e così via. Andarmi a dire, no, tu devi dire così, tu devi dare queste informazioni, no, io dico la mia esperienza, dico quello che è successo a me e non parlerò mai di un altro paese male o così via, perché secondo me non è corretto e non è intelligente, ogni paese ha i suoi lati positivi, i suoi lati negativi, chiaramente bisogna solo vedere cosa vi piace più a voi, cosa piace più a me, cosa piace più ad un'altra persona e così via, è tutto lì. Secondo me tutti gli assoluti non sono intelligenti, dipende sempre molto dall'esperienza. Niente, vi saluto, ci vediamo nel prossimo video e ragazzi se avete qualche domanda o commento scrivetemelo sotto. Ciao, ciao!